Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Sala Giochi, io sono André Maderna e con me oggi c'è di nuovo Andrea Giongiani, ciao Andrea Dico di nuovo perché abbiamo registrato non troppo tempo fa per chiacchierare di disco Elysium che avevi provato la versione anteprima e tra l'altro diciamolo, stai giocando la versione finale del gioco oltretutto mi dicevi poco fa che sei lì per finirlo, o almeno così credi Diciamo che ho la sensazione di stare verso la fine, poi non ho la soluzione davanti quindi è solo una sensazione che ho, poi vedremo se è giusto o meno Vabbè sì, sono quelle cose che si capiscono e vabbè quindi insomma ne parleremo in un'altra occasione oggi però parliamo di un altro RPG, tale Stijan, Reign of the Old Ones che devo dire, mentre il disco Elysium comunque nel circoletto è abbastanza chiacchierato, atteso anche se è una produzione indie, devo ammettere che finché non mi hanno proposto il codice su questo Stijan non sapevo nulla, non so se tu ne avevi già sentito parlare Ne ho sentito parlare quando me ne hai parlato te Perfetto Che è un RPG, vedo, horror cosmico, qualsiasi cosa voglia dire con uno stile particolare, perché è tipo disegnato a mano come grafica, o sbaglio? Sì, diciamo, come grafica sembra più o meno disegnata vanno un po' su uno stile che ha un certo carattere, diciamo di sicuro volevano trasmettere quello Dimmi subito, funziona come stile? Può piacere a qualcuno, direi diciamo che può piacere a qualcuno Ok A me personalmente non ha fatto impazzire particolarmente però aveva carattere, quello glielo riconosco Riguardo a quello che ho detto prima parlando di orrore cosmico Sì, nettamente sì è esplicitamente ispirato a Lovecraft quindi senza mezzi termini è orrore cosmico Ok, ok quindi vabbè, insomma infatti stavo guardando un po' di screenshot e vedo mostri giganti antichi e via dicendo le classiche ma è proprio nel senso dicono che è ispirato è proprio una roba ufficiale che pesca da racconti cose del genere Sì, intanto da quello che ho capito tanto è buona parte anche se non tutti i racconti di Lovecraft ormai sono di pubblico dominio perché è scatto il limite del copyright quindi fondamentalmente chiunque li può usare per farci quello che vuole ormai quindi sì è ufficiale non hanno dovuto pagare non hanno dovuto chiedere l'autorizzazione però è ufficiale Ok, ok sì, in effetti vedo che è ambientato negli strani mondi di Lovecraft dice la descrizione del trailer Sì, sì al 100% Tra l'altro è stato in lavorazione per un bel po' mi pare di capire perché vedo che è uscito a fine settembre però appunto il trailer che ho cercato al volo così su YouTube risale addirittura a maggio del 2016 Sì, hanno fatto una campagna Kickstarter che deve essere andata bene se no il gioco non usciva e l'hanno fatto uscire adesso tra l'altro approfitto che tanto prima o poi lo dovrei dire tanto vale dirlo adesso hanno deciso ovviamente il giorno prima che uscisse il gioco hanno dichiarato che non era il gioco completo hanno deciso no, vabbè la storia la facciamo fino a metà e l'altra metà non si sa se l'aggiungeranno al gioco che è uscito o lo useranno per fare un seguito in futuro Andiamo bene Sì, comunque per conferma vedo che la campagna su Kickstarter era del giugno 2016 peraltro lì vabbè ma questo succede abbastanza insomma davano per consegna stimata a novembre 2017 due anni dopo e non è neanche più completo Ferrovie italiane insomma Ferrovie dello Stato Sì, un po' quello stile sì, in effetti vabbè insomma comunque com'è? a parte lo stile visivo ha altre allora come stile di gioco in sé è un gioco di ruolo abbastanza classico nel senso ti crei il personaggio il sistema di creazione è abbastanza interessante puoi scegliere anche l'età del protagonista e ha un'influenza perché magari il personaggio giovane è fisicamente più prestante ma ha meno abilità mentre il personaggio se ti crei un personaggio più anziano hai più conoscenze che vista l'ambientazione non è sempre positivo e ovviamente è fisicamente meno prestante i combattimenti sono pur ha senso come cosa interessante come scelta no, no, no è fatto abbastanza bene da questo punto di vista l'esplorazione i dialoghi le skill anche legate al dialogo e il mondo cioè tutti quegli aspetti sono stati fatti in maniera che direi competente come minimo competente non benissimo ma bene è molto hack and slash si combatte la valanga o sì e no nel senso che i combattimenti ci sono anche in discreta quantità ma in realtà non conviene stare a combattere e fare un massacro indiscriminato perché praticamente loro hanno introdotto questa è un'altra cosa interessante una sorta di punti esperienza negativi diciamo i punti angoscia ok chiamiamoli così che se te ne prendi da parte un certo numero ti sale il livello di angoscia e devi sceglierti una caratteristica che al tempo stesso sia negativa che positiva tipo i perk di fallout quelli iniziali i tratti iniziali ok sì tipo per dire può capitare che che so ammazzi un sacco di persone di antipsicopatico puoi prendere quel tipo di caratteristica capito che ha degli effetti positivi o negativi appunto a seconda delle circostanze cioè fondamentalmente loro quello su cui punta il gioco è che te inizi il combattimento standi uno o due nemici poi magari scappi o cerchi altre soluzioni loro hanno dichiarato che se ti alzi molto sia le skill di dialogo sia lo stealth eviti circa il 90% degli scontri solo che io non ho creato il personaggio in quel modo io ho creato uno che era un po' basato sullo stealth ma poi anche sul combattimento quindi era una cosa abbastanza bilanciata e e onestamente quando stavo in combattimento no ti ammazzo non esiste che scappo ti faccio fuori che è giusto farti fuori se ti mi attacchi e mi sembra coerente esatto poi vabbè diciamo che quando si incontrano certe creature combattere non è proprio la scelta più intelligente neanche guardarle però sei lì non è che puoi lasciare quel mondo te lo subisci in un certo senso vabbè chiedo se no non giochi esatto se non vuoi perché fare comunque in quell'ambientazione non giocare penso sia la cosa più intelligente da fare in quell'ambientazione però vabbè sì ovviamente ok e a livello di di storia perché poi alla fine è anche quello importante in un gioco del genere allora la storia è interessante e di sicuro hanno studiato quindi se uno è appassionato di Lovecraft dei miti eccetera si ritroverà a casa che non è una casa piacevole però si ritroverà a casa diciamo che quello che hanno creato per il gioco è che un'intera città è stata trasferita in una sorta di limbo a me ha dato un po' la sensazione tipo il regno dei sogni di Kadath per chi ha letto i miti però vabbè c'è tutta questa città con la mafia dentro tra l'altro a complicare le cose prigioniera di questi orrori con dei cultisti che tra l'altro peggiorano a loro volta ancora di più la situazione non c'è nulla davvero di piacevole per trovare un lato positivo nell'ambientazione e tu come personaggio hai una visione su una persona su un'entità diciamo che non sto a spoilerare troppo cosa perché sarebbe un peccato e fondamentalmente devi cercarla per cercare di trovare una soluzione oppure di scappare oppure a seconda delle caratteristiche del tuo personaggio che può essere anche magari che so se te crei uno avido sei spinto a cercare che so potere personale e e ti crei il tuo obiettivo in realtà fondamentalmente da questo punto di vista capito ho capito beh ok comunque insomma mi sembra interessante perché comunque vedo percepisco lo sforzo di sfruttare la fonte di ispirazione anche per fare delle cose legate a come si sviluppa l'ambientazione nel gioco cioè non è solo una skin da come me la descrivi no infatti guarda mi rendo conto anche parlandoti tutti gli elementi sembrano essere più o meno positivi e fatti bene e lo sono ci sono parecchie idee carine prima ho accennato della creazione del personaggio per dire non c'è solo la scelta dell'età ti puoi anche scegliere una sorta di psicologia di base del personaggio tipo se te ti crei un personaggio umanista illegale buono di se smitto a cercare di preoccuparti delle altre persone e se assisti a orrori massacri spacimenti di sangue perdi sanità mentale al tempo stesso se te ti crei un personaggio che so è egoista o pensa all'esoterismo o cose del genere i suoi obiettivi e i suoi lati deboli cambiano completamente e poi c'è sempre ovviamente il discorso della sanità mentale che nei giochi basati sui miti di Lovecraft è probabilmente sempre presente quindi a seconda che uno guarda situazioni sgradevoli o orrori cosmici che per l'appunto il rischio di impazzire è sempre dietro l'angolo e anche lì ci sono proprio delle follie che ti puoi prendere nel personaggio sono altri perk negativi che ti vengono sopra quindi no ci hanno pensato sopra e il lavoro finale è fatto assolutamente bene solo che a volte i combattimenti per dire non sono particolarmente profondi le abilità non sono spiegate benissimo anche la relazione tra le varie abilità quindi è fatto bene ma non benissimo non saprei anche altro modo di capisco capisco poi capisco anche che appunto stai giocando a disco Elysium che mi sa che così è occhio superiore quindi c'è anche un po' ha in bocca un sapore migliore è completamente diverso in realtà beh sì è vero anche quello forse non è neanche troppo sensato paragonarli sì cioè sono due giochi di ruolo ma definiscono le somiglianze fondamentalmente non c'entrano molto poi come ho detto prima una cosa che davvero non ho apprezzato è che il gioco fosse a metà neanche lo dicono da nessuna parte nella pagina di vendita del gioco non so se magari l'hanno corretto proprio negli ultimi giorni ma quando l'ho sbloccato e quando l'ho giocato non c'era nessuna traccia da nessuna parte in cui dicevano che il gioco era mezzo gioco invece del gioco completo avevano fatto un post su kickstarter dicendo questa cosa ma non è che l'avevano detta proprio in modo chiaro e non è qualcosa che ho apprezzato troppo onestamente no capisco capisco sì ma quanto così a spanne quanto è lungo come una ventina di ore se le fanno una ventina di ore tre fanno una ventina di ore loro hanno riflettuto sul fatto che inizialmente pensavano di fare un gioco di circa 15 ore e gli si è allungata la trama a dismisura e hanno detto vabbè invece di finirlo sbrigativamente in modo sbrigativo preferisco fare per bene fino a questo punto e il resto ci pensiamo dopo che ha senso però dillo stavo pensando a a broken age che non so se ricordi avevano fatto la campagna su kickstarter nel 2012 e poi siccome hanno fatto tipo quasi 4 milioni di dollari hanno deciso di fare una era venuta una roba più grossa e l'hanno pubblicato in due parti una inizio 2014 e una primavera 2015 sto vedendo non mi ricordo onestamente quando questa cosa la divisione in due parti era stata annunciata se all'uscita della prima parte o o o prima ah ecco sto vedendo si insomma più o meno siamo lì guarda non l'ho giocato quindi non non saprò onestamente vedo solo che praticamente sono usciti a più di un anno di distanza da quello che ho visto si 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 eh vabbè gennaio 2014 l'altro aprile 2015 però per prestigian non si sa letteralmente nel senso io io ho chiesto esplicitamente sentite ma la storia pensate di finirlo o meno e hanno detto che ci stanno pensando che non possono fare dichiarazioni al momento vabbè così è beh alla luce di tutte queste cose cioè tu lo consiglieresti oddio non ti sento più infatti si è andato via l'audio del tutto per un po' ah ok eh ti hai ribloccato quando stavi guardando oh cavolo aspetta l'uscita di Broken Age a gennaio e aprile sì 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 ok poi dicevo sono andato anche a chiedere ecco no si ridi quello sono andato a chiedere sì sono andato proprio direttamente a contattare gli sviluppatori ho chiesto tranquillamente sul forum di Steam se pensavano di finirla la storia e come ho detto prima non si sa perché hanno detto che non possono parlarne che adesso si focalizzeranno sui bug e molto probabilmente sarà legato a quanto venderanno e non so a quanto stanno vendendo onestamente capisco capisco vabbè sì quindi girano cioè per quanto possa essere interessante ti pigli una roba che non sai neanche se mai finirà cioè ma è proprio così è troncato non è che c'è una specie di mezzo finale no diciamo che la trama inizia a diventare figa ma davvero ho detto proprio con un'assimilistra diamo a Cesare quel che è di Cesare e poi finisce capisco così proprio c'è un cliffhanger di quelli tipo puntata di 24 te lo ricordi quello con Kiefer Sutherland che stanno dicendo una frase si finisce a metà frase ti puoi vedere come finisce e finisce finito lì solo che non c'è la puntata dopo e non sai se mai uscirà la puntata dopo vabbè secondo me il consiglio è mettetelo in wishlist su Steam ma aspettate che annunci non la seconda parte perlomeno guarda se uno è davvero appassionato del genere merita se gli piace il genere se gli piacciono giochi di polo vale la pena giocarlo perché le idee ce le hanno avute l'implementazione dei personaggi l'ambientazione davvero è fatto bene però se uno è un po' sul confine un po' indeciso sta uscendo di meglio molto semplicemente sta uscendo di meglio tra cui disco Elysium ma tra parentesi sì è anche vero che ultimamente cioè l'ultimo gioco del genere che è uscito cosa faccio fatica perché Wasteland 3 comunque è di là da venire perché esce l'anno prossimo sì Fate 3 che deve comunque ancora uscire sì Pillars of Eternity 2 è uscito da un po' ormai per cui tutto sommato siamo è uscito da da più di un anno per cui siamo in un momento in cui magari uno per questione più caso di siccità potrebbe decidere di dargli una chance fermo restando che disco Elysium così a occhio alla precedenza sì ma poi c'è pure da dire che tra dieci giorni esce The Other Worlds ok prima persona ok di sicuro di sicuro avrà una componente d'azione più forte però sempre di gioco di loro stiamo parlando onestamente però io conosco conosco gente che non ne vuole sentire parlare perché appunto c'è tutta la parte più FPS quindi magari quello non lo prende sì è vero facevo parte pure io abbastanza degli estremisti fino a un po' ti ho scoperto vabbè vabbè ok hai qualcos'altro che puoi aggiungere o direi perché a me sembra che più o meno abbiamo detto tutto sì a me più che altro non mi rimane più che delusione e dispiacere perché poteva essere migliore poteva essere migliore e non voglio ripetermi ma potevano finirlo e e quindi rimane quella cosa che è l'unico gioco di ruolo che è davvero un gioco di ruolo basato sui miti anche perché c'è Call of Cthulhu che è un gioco in prima persona basato sul gioco di ruolo cartaceo però è più uno di quei è un po' denigratorio come termine però chiamiamolo simulatori di camminata ok vai in giro esamini non è che c'è davvero un gameplay profondissimo anche se hai delle abilità di scelta multiple e altro ma non è un gioco di ruolo c'è quell'altro che per me è stato un capolavoro che è Dark Corners of the Earth ma quello è uscito nel paleolitico non è facile da trovare e poi è invecchiato quindi magari a chi non è abituato ad avere a giocare a cose troppo vecchie magari neanche può piacere detto questo Stijan non è comunque il gioco col graficone quindi se ti piace Stijan ti piace pure Dark Corners alla fine però sì c'è il fatto che Stijan è l'unico gioco di ruolo veramente gioco di ruolo che esiste su quell'ambientazione quindi non è che se uno vuole quello non ha scelta cioè solo quello no no certo va bene va bene segnalo così anche perché appunto non sapendo di preciso quando come si dice quando usciremo col podcast su Disco Elysium ho visto passare questa notizia e la la come si dice la segnalo che c'è questo non mi è chiarissimo cos'è Underrail free copy of Underrail vabbè se si compra gioco di ruolo tipo Fallout perché ok ecco perché ho visto passare adesso l'email di GOG che se compri su GOG Disco Elysium ha in omaggio Underrail fino al 22 ottobre ok allora guarda ne approfitto perché lo conosco Underrail diciamo che è abbastanza il mio genere quello dei giochi di ruolo quindi no Underrail è un grande affare ok vedo il facilitatore in diretta assolutamente cioè non è manco pubblicità perché non è che siamo noi copi e no è un'offertura assolutamente pazzesca cioè Underrail merita assolutamente un gran gioco di ruolo classico molto ispirato a Fallout se si pensi a metro lo spara tutto però gioco di ruolo il Fallout ammiettato in Russia nella metropolitana insomma nelle stazioni della metropolitana davvero fatto bene bei dialoghi bel sistema di regole bella trama abbastanza difficile però quello non è un difetto di per sé se lo regalano con Disco Elysium è un bel affare comunque di suo costa 13,49 euro quindi buttalo in omaggio va bene va bene allora ti ringrazio grazie a chi ci ha ascoltato ci risentiamo quando finisce Disco Elysium magari fra 5 minuti può essere che te l'ho detto è proprio la sensazione di stare alla fine quindi dovrebbe mancare poco ok va bene ciao 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 ciao